Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Livorno, per lavori di miglioramento della sicurezza, c'è un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Sempre per lavori in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Si ricorda che i percorsi alternativi sono sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Per quanto concerne le autostrade in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello e code sempre per traffico intenso tra Barberino di Mugello e Aglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!